Ad esempio, da mesi cerchiamo un cestone per i rifiuti tipo Vasart, costo 1.231 euro. L'avete visto, l'avete visto in piazza, avete avuto modo di gettare qualche carta in questo cestone. Abbiamo pagato delle piante di una certa misura, comunque sono state messe di una misura inferiore a quella per cui abbiamo pagato. Che alla luce di quanto previsto nella perizia di assestamento e negli elaborati di contabilità finale tonalmente redatti, conformemente alla norma in vigore, si evince chiaramente quanto segue. La voce numero 18, fornitura e posa in opera di porto rifiuti cestone tipo Vasart, non è mai stata eseguita e tantomeno contabilizzata, quindi non è stata mai pagata. La voce numero 12, fornitura e posa in opera di clorissia speciosa, albero, con altezza di 1.650 più 400, non è stata mai eseguita e tantomeno contabilizzata, quindi anche qui non è stata mai pagata. Che figura di merda! Che figura di merda! Che figura di merda! Che figura di merda!